benvenuto ben ritrovato sul mio canale benvenuto in questo nuovo video benvenuto sul nuovo lozzi rubrica dove si parla di vaping senza parlare di vaping cerco semplicemente di riportare notizie senza fare presentazioni o recensioni o via discorrendo quest'oggi ti voglio raccontare una storia una storia che riporta al suo interno in realtà anche una notizia diciamo questa storia comincia intorno al 20 di giugno quando in parlamento si sta discutendo la legge delega di riforma fiscale in commissione finanze ok quindi il governo ha presentato un emendamento che era diciamo voleva vietare la vendita online dei liquidi da inalazione o comunque insomma tutte le varie componenti per le sigarette elettroniche munite di fascetta di apposita fascetta quindi che fan parte del monopolio quindi diciamo abbiamo rischiato una vera e propria rivoluzione si passa poi al 28 di giugno io sono le date nelle quali ho trovato gli articoli online su sig magazine nella nel caso specifico ma anche in altre testate ovviamente se uno cerca il governo fa un piccolo passo indietro la vendita di liquidi da inalazione sul web rimane consentita l'unica cosa che viene rimarcata può essere effettuata da aziende autorizzate alla gestione di un deposito fiscale e quindi acquistare solo prodotti con da deposito fiscale quindi regolamentati e quindi con fascetta e tutto sembra diciamo tornare nella normalità vengono rimarcate alcune cose che non si può acquistare dall'estero non si può insomma si può continuare ad acquistare tranquillamente da siti italiani o comunque insomma siti leciti e tutto sembrava appunto rientrato ma attenzione attenzione come ormai ben sappiamo le storie in italia non hanno quasi mai un un lieto fine ho trovato questa notizia ieri su sig magazine ed è stata una notizia di quelle che quindi datata 12 luglio anzi ieri l'altro 12 luglio è una di quelle notizie che ti cascano addosso un po a ciel sereno perché uno non se l'aspetta giustamente eravamo tutti convinti anche io avevo fatto un primo video dove vi raccontavo il rischio di sospensione di vendita dei liquidi online poi avevo fatto uno short un altro video per comunicarvi che comunque questa ipotesi era sfumata e beh quindi tutti tranquilli non cambia nulla no cambia tutto si sta per verificare una vera e propria rivoluzione è stato votato ed è passato alla camera un emendamento di riforma delle vendite online potranno essere acquistati solo prodotti dell'unione europea e fino a qui niente di nuovo o il cui approvvigionamento avviene da paesi europei e fin qui niente di nuovo la grossa novità attenzione attenzione sta nella consegna perché se tu che stai guardando questo video sei maggiorenne puoi acquistare un liquido online e lo acquisti non te lo puoi far spedire a casa dice ma come non posso farmelo spedire a casa no è qui che sta il bello praticamente si potrà farsi spedire i propri liquidi solamente presso tabaccherie rivendite autorizzate da adm o addirittura anche farmacie o parafarmacie autorizzate dall'agenzia delle dogane e monopoli non so se mi sono spiegato bene se volete ve lo ridico allora il parlamento ragazzi questa è stata votata ed è passata la cosa non sarà immediata ma ora ci arriviamo il parlamento riforma il mercato della sigaretta elettronica anzi più che lo riforma oserei dire stravolge proprio la modalità di acquisto sul web con uno dei tanti emendamenti presentati alla legge della del delga di delega fiscale che è stato proposto dalla commissione finanze della camera ed è stato appoggiato in toto dal governo e approvato dalla maggioranza parlamentare quindi è stato approvato non è che in via di è stato approvato si possono acquistare soltanto prodotti europei o regolarmente importati da aziende comunitarie il ritiro di qualunque ordinativo dovrà avvenire presso una tabaccheria o una rivendita di sigarette elettroniche o nelle farmacie e parafarmacie autorizzate dall'agenzia delle dogane e monopoli ha scelto ovviamente dell'acquirente almeno questo l'hanno lasciato si può scegliere dove farsi rispedire un po come avere un hub di amazon un amazon locker un po differente però insomma come stavamo dicendo come stavo dicendo nell'immediato non cambia nulla perché questa procedura avrà bisogno di alcuni mesi per essere messa in funzione quindi diciamo è una delega che è stata assegnata al governo ma dopo i vari decreti attuativi ci vorrà un direttoriale dell'agenzia delle dogane dei monopoli sicuramente quindi una volta effettuato l'acquisto online il consumatore dovrà indicare un punto di ritiro che potrà essere una tabaccheria un negozio di sigarette elettroniche oppure una farmacia o una parafarmacia che adm ti indica quindi c'è anche il rischio che in qualche città non ci sia un punto dove poter acquistare tra l'altro tra l'altro sembra da quello che sta trapelando non è ancora ufficiale quindi staremo a vedere quello che sarà in tutto e per tutto l'ordine possa essere ritirato solamente da chi lo ha effettuato per dimostrare la propria maggiore età quindi bisogna essere maggiorenni e quindi me lo dimostri perché viene ritirare tu che hai ordinato e non magari il figlio come succede alcune volte magari io capita che un pacco mandi il figlio ritirarlo e in questo caso no non si può non è chiaro se al al negozio alla tabaccheria o la parafarmacia o la farmacia che verrà scelta da dm come punto di ritiro verrà riconosciuto una commissione un corrispettivo per il servizio che fornirà al cliente quindi questo è quanto io la vedo come una c'è sono partiti dal voler vietare tutto poi sono arrivati al rimane tutto nella maniera più simile possibile hanno scelto probabilmente una via di mezzo che non ti impedisce comunque di comprare online però dall'altra parte secondo me un po in ginocchio il settore lo mette perché metterà in crisi tanti detto questo fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao